Ace, igiene, convenienza, protezione, tecnologia, proteggi fibra, più bianco subito, rimuovo i germi e batteri, candigina classica, ora anche nel bottiglione, non per i 250 ma addirittura da 5 litri massima convenienza, consigli per l'utilizzo sicuro, il prodotto non è adatto per seta, lana, capi colorati, in caso i capi bianchi con motivi colorati, verifica la resistenza e colora la candigina provando il prodotto diluito su una parte non visibile, il tessuto, il prodotto di ala per le superfici non porose come pavimenti, ceramiche, doccia, vasca da bagno, lavelli della cucina, non utilizzatelo sul rame, ottone, aromine o superfici porose. Ace, candigina, bucato, lavatrice, trattamento anche a mano di ace, crediamo che gli spazi comuni meritano lo stesso rispetto, attenzione che diamo noi alla nostra casa, prova anche la candigina ace, in pratica maxi tassi, confezione esterna, zero plastica.